Ieri a Faenza i carabinieri hanno arrestato un noto spacciatore che aveva trasformato una piazzetta del centro della città Manfreda in un ufficio per lo spaccio di marijuana. I clienti del pregiudicato marocchino erano giovanissimi alunni delle scuole superiori di Faenza, ragazzi di 14-15 anni che prima di andare a scuola o dopo le lezioni si fermavano nella piazzetta a consumare e acquistare droga. In seguito all'arresto di Ieri a Faenza il comandante dei carabinieri del comando provinciale di Ravenna Massimo Cagnazzo ha voluto ribadire con forza che la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi e all'interno delle scuole è una delle principali battaglie dell'arma. Ormai sono due anni che l'arma dei carabinieri della provincia si è prefissato tra i scopi principali, tra gli obiettivi provinciali quello proprio del contrasto, prevenzione prima di tutto ma soprattutto anche del contrasto con spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dei minori e in particolare nel caso specifico di studenti. Quindi puntualmente le compagnie dipendenti del provinciale di Ravenna svolgono attività antidroga all'esterno degli istituti scolastici all'inizio o a termine delle lezioni anche con l'asilo dei cinofili, quindi dei cani antidroga dei carabinieri di Bologna. Ci teniamo molto in questa attività perché può colpire ovviamente, colpisce i minori che possono essere per noi dei figli, possono essere dei fratelli minori e è un'attività che si inserisce nel quadro più ampio di quelle che sono attività di contrasto alla criminalità che può colpire l'ambiente extrascolastico o scolastico, parlo del bullismo, parlo di prevaricazioni magari anche che possono avvenire tra l'ugni, però è ovvio che il minore, un po' così come l'anziano, mi riferisco alla campagna per le truffe agli anziani che l'arma di Ravenna sta svolgendo, il minore ha un'autodeterminazione minore, quindi è facilmente influenzabile. Ecco infatti l'arresto lo dimostra lo spacciatore sotto gli istituti scolastici nella piazzetta che fa un po' da crocevia degli istituti scolastici di Faenza che avvicinava o era lì disponibile per dare la sostanza stupecenti, in questo caso la marivana, a studenti giovanissimi, gli istituti superiori della zona di Faenza, magari anche agevolati dal fatto di avere la pronta disponibilità di uno spacciatore limpia a sette, quindi peraltro dove la consumavano, quindi provvedevano anche al consumo di quello che acquistavano. Nell'arco del 2016 quali sono le operazioni che appunto sono state portate a termine? Oppressivamente Faenza, Lugo, Ravenna e Cepia che sono le quattro compagnie con i 40 comandi di stazioni e carabinieri abbiamo fatto numerosi servizi che hanno portato l'arresto all'esterno degli istituti scolastici in prossimità di quattro persone, quindi di quattro spacciatori, alla denuncia a piedi libero di due e alla segnalazione amministrativa per consumo di oltre 25 minori. Come nel caso di Faenza, spesso i ragazzi giovanissimi, i minorenni, sono figli di famiglie molto per bene, quindi mai abbassare la guardia, neanche da parte dei genitori? Assolutamente no, non vogliamo assolutamente sostituirci, però l'attività dell'arma in questo è premiata anche dalle richieste che alcuni genitori telefonicamente, anche con lettere anonime, si rivolgono all'arma dei carabinieri e chiedono l'ausilio proprio nei controlli, perché hanno magari sentore, tramite magari dopo un colloquio avuto con i figli, hanno sentore che qualcosa non va e quindi ci danno queste indicazioni. Peraltro questa attività si inserisce nel più ampio contesto, oltre che della prevenzione e della ripressione, proprio di relazione con gli studenti. L'arma svolge quotidianamente all'apertura e fino alla chiusura dell'anno scolastico delle conferenze a tema che possono riguardare il consumo, quindi su tutti i danni che provoca il consumo di sostanze stupefacenti, tutte le conseguenze amministrative, non solo i danni alla salute, ma anche in particolare le conseguenze amministrative che portano al consumo di sostanze stupefacenti, non solo, anche il bullismo, quindi l'arma in questo è disponibile. Io ho fatto l'appello sia agli insegnanti, agli alunni, ai compagni magari che sanno, sono a conoscenza che è un compagno di classe, che magari è minorenne, quindi non ha la capacità magari di autodeterminarsi, di chiedere un aiuto ai carabinieri per poter intervenire e risolvere il problema magari prima che possa diventare più grave.